Hai mai acquistato un viaggio o un biglietto aereo online? Quando fai il check-out e vai a pagare il costo, ti danno la possibilità di acquistare una assicurazione per tutelarti dai imprevisti del viaggio. Vale la pena acquistarla? Lo vediamo in questa puntata. Io sono Michele Vitale e questo è il podcast Basta Bollette. Bentrovata, bentrovato in questa puntata del podcast dedicata alle assicurazioni di viaggio. Capita spesso quando acquistiamo un viaggio online e dobbiamo fare il check-out che dobbiamo letteralmente districarci nella giungla delle opzioni aggiuntive tipo il noleggio auto, l'hotel, la scelta del posto prenotato piuttosto che poter stare vicino al finestrino o acquistare spazio per un ulteriore bagaglio. E veramente sono tantissime le ipotesi pop-up che appaiono continuamente nel processo di acquisto e tra le varie offerte che la compagnia aerea tenta a tutti i costi di propinarci c'è anche quella della copertura assicurativa della assicurazione da imprevisti o da malattie, annullamenti, spese ospedaliere o effetti personali del bagaglio nel caso di smarrimento o danneggiamento. Queste assicurazioni hanno un costo piuttosto ridotto per acquisti di tratte italiane o europee il prezzo oscilla tra le 15 e le 20 euro ma vale veramente la pena acquistarle? Per fare una valutazione davvero ponderata è indispensabile dare un'occhiata alle condizioni di assicurazione quindi la cosiddetta policy così come viene ad esempio riportata sul sito della Ryanair. Si apre un documento pdf lunghissimo tra l'altro di 39 pagine che ci metterà veramente tempo a scorrere e leggendo queste condizioni si scoprono cose davvero interessanti. Intanto la prospettazione dell'acquisto è fatta in una maniera molto sbrigativa ovviamente sul sito di checkout dove già il titolo della proposta commerciale è estremamente allettante e generale anzi direi generico perché il titolo nel caso del sito della Ryanair è proteggi il mio viaggio dagli imprevisti e nel breve e sintetico elenco delle caratteristiche della garanzia sembra che ci siano tante cose interessanti e utili come l'annullamento o l'interruzione le tasse applicabili rimborsate le spese ospedaliere chirurgiche o mediche spese mediche domestiche effetti personali bagagli e oggetti personali inclusi iPod, mp3, abbigliamento e chi più ne ha più ne metta. Ma in realtà dietro questa elencazione di servizi allettanti si celano alcune clausole più oscure e non certo incoraggianti quanto all'acquisto di questa polizza per capire quali sono queste clausole dovremo leggere il documento pdf con le condizioni di polizza in cui si fanno scoperte davvero interessanti da quello che c'è scritto nella descrizione sintetica della polizza sembra che sia coperto il caso di annullamento o interruzione del viaggio quindi io non posso viaggiare per un problema di salute contatto la compagnia sono assicurato e chiedo il rimborso della somma non funziona così perché se si va a leggere le condizioni specifiche della polizza si scopre ad esempio che la polizza esclude le condizioni mediche preesistenti note quindi se si ha una malattia magari cronica che ogni tanto si acutizza questa cosa certamente ci impedirà di avere nel caso di riacutizzazione il rimborso del viaggio ma anche in caso di malattia non è detto che scatti la polizza a garantirci il rimborso del viaggio nelle condizioni infatti si parla di grave malattia come unica condizione ammissibile per il rimborso per l'attivazione della polizza e malattia o infortunio grave è qualsiasi malattia o infortunio che riduce gravemente la mobilità dell'assicurato si legge sempre nelle condizioni di polizza o che si traduce nel ricovero ospedaliero per più di 48 ore quindi un'influenza un raffreddore un mal di schiena qualsiasi cosa che non consenta non richieda il ricovero ospedaliero per più di 48 ore non è una grave malattia e quindi non può dar luogo al rimborso ancora un'altra sorpresa riguarda gli oggetti che fanno parte del bagaglio per cui la formula sintetica di descrizione della polizza assicurativa prevede il rimborso in caso di smarrimento o danneggiamento ebbene andando a leggere invece le condizioni specifiche si legge che il viaggiatore deve dimostrare la ricevuta di acquisto o addirittura una perizia che attesti il valore dell'oggetto che si è smarrito o che è stato danneggiato altrimenti non aspetta alcun rimborso o meglio aspetta un rimborso in un ammontare ridicolo pari a 50 euro si legge a pagina 14 per oggetto singolo e comunque fino a un massimo di 150 euro per ogni richiesta di indennizzo in pratica è come dire se trasporti oggetti di valore di cui non puoi dimostrare effettivamente il valore o non hai la ricevuta di acquisto ottieni un contentino paradossalmente può essere addirittura più conveniente della polizza assicurativa a pagamento semplicemente invocare la normativa vigente in materia sul risarcimento di danni o smarrimento del bagaglio in questi casi infatti la legge prevede un indennizzo secco calcolato sulla base di parametri che garantiscono comunque l'ottenimento di svariate centinaia di euro per ad esempio lo smarrimento del bagaglio a prescindere dalla possibilità di dimostrare l'effettivo valore del contenuto della valigia smarrita e qui mi fermo perché volendo si può andare avanti nella scoperta di varie altre sorprese nelle lunghe e fitte 39 pagine delle condizioni specifiche di contratto della polizza assicurativa ma non voglio dilungarmi in quello che diventerebbe poi un episodio chilometrico ora a te le valutazioni ma ovviamente anche acquistare una polizza per quanto economica come questa potrebbe non offrirti la copertura e le garanzie che credi di acquistare leggendo rapidamente la presentazione sintetica nella finestra di check out della compagnia quindi il consiglio è se proprio si vuole acquistare la polizza quantomeno leggere con molta attenzione le condizioni generali di contratto della polizza e confrontarle eventualmente con altre polizze di compagnie specializzate nelle assicurazioni per viaggi che allo stesso prezzo ho fatto io un confronto per esempio con una polizza specifica viaggi della Alliance aveva un prezzo assolutamente paragonabile a quello di Ryanair ma probabilmente offre delle condizioni più tutelanti e più protettive rispetto a quelle previste dalla polizza offerta da Ryanair quindi occhio alle condizioni generali leggile sempre prima di acquistare questo servizio e con questo concludo la puntata del podcast invitandoti a iscriverti al podcast sui link che troverai nelle note dell'episodio e sempre nelle note dell'episodio potrai trovare i link alla finestra per inserire commenti o domande di cui potrò parlare nelle prossime puntate se ti è piaciuta la puntata infine ti invito a mettere 5 stelle nelle recensioni iTunes al link che troverai sempre nelle note dell'episodio grazie per avermi seguito fin qui e alla prossima puntata di basta bollette grazie